La persistenza in terapia, ovvero per quanto tempo il paziente continua a assumere il farmaco nei dosaggi con la posologia consigliata al medico, è un indice importante dell'efficacia di questo farmaco. E' questo l'oggetto di uno studio presentato qui all'Eura, uno studio italiano realizzato dal gruppo Birra, che ha valutato nei pazienti con artrite psoriasica la persistenza in terapia del secukinobab confrontata con quella dei farmaci anti-TNF. Ne parliamo col dottor Simone Parisi. Dottor Parisi, prima di passare allo studio le chiederei innanzitutto cosa significa Birra, un acronimo che avete scelto con un nome molto bello, che si ricorda bene, ma cosa vuol dire? Birra sta per Biologic Retention Rate Assessment ed è insomma questo gruppo di cui faccio parte che si occupa di analizzare fondamentalmente l'andamento delle terapie con farmaci biologici nei pazienti affetti di reumatismi infiammatori, quindi studiamo fondamentalmente l'efficacia proprio di queste terapie in questa tipologia di pazienti. Perché il retention rate che cosa misura complessivamente? Fondamentalmente la retention rate è la sopravvivenza al trattamento del paziente che è un surrogato di fatto dell'efficacia del trattamento, quindi è un modo che si applica nel real world proprio per determinare l'efficacia di un trattamento farmacologico in una popolazione di pazienti. Molto chiaro, allora veniamo allo studio. Su quali pazienti l'avete condotto? Che parametri avete esaminato? Quindi ci racconti un po' l'antefatto. Noi abbiamo analizzato una popolazione di pazienti affetti da artrite psoriasica che insomma venivano sottoposti ad una terapia o di cycling o di swap, nel senso che erano i pazienti che fallivano una prima linea con antitnf alfa. Allora ad oggi fondamentalmente anche le linee guida, sia nazionali che internazionali, non ci danno un indirizzo gerarchico di come comportarci in questi casi e gli studi sono non proprio univoci nella loro interpretazione, perché qualcuno favorisce il cycling, quindi il passaggio da antitnf ad un altro antitnf, altri invece il cambio di meccanismo d'azione. Noi abbiamo voluto analizzare proprio specificatamente in una popolazione di più di 400 pazienti questi due gruppi di pazienti. Una parte che quindi faceva la terapia di cycling e quindi passava da una prima linea di antitnf ad un'altra linea di antitnf e invece un'altra parte di pazienti che invece Swap faceva la strategia di Swap da antitnf alfa a interlochina 17, inibitore di interlochina 17. Quali farmaco anti interlochina 17 avete studiato? Dunque noi abbiamo analizzato i due farmaci in commercio ad oggi in Italia, Secuchinumab e Xechizumab, ma naturalmente la corte di pazienti ha la maggior parte dei dati riguarda Secuchinumab, perché è stato anche il primo antiterlochina 17 ad essere in commercio in Italia fin dal 2015. Senti veniamo ai risultati, cosa si è visto? Quello che abbiamo notato è che abbiamo analizzato nella nostra corte di pazienti che andando a vedere i due gruppi, insomma suddivisi più o meno per 200 pazienti per gruppo, la strategia di Swap sembra essere molto più favorevole in termini di raggiungimento di una migliore retention rate rispetto al cycling e questo lo si vede anche nell'analisi di Cox regression che si è vista proprio nei fattori predittivi come effettivamente la strategia di Swap implichi effettivamente una migliore retention rate in questa tipologia di pazienti. Con una differenza non solo statisticamente significativa ma anche clinicamente rilevante, cioè c'è una bella differenza tra i due gruppi? Beh, praticamente si vede, si nota come in due anni di analisi effettivamente la differenza si attesta intorno ad un 10-15% rispetto alle due popolazioni e se noi pensiamo che andando ad analizzare l'anno di prescrizione dei farmaci, chiaramente questo studio è un pochino più sbilanciato in realtà all'inizio in favore degli anti-TNF-Alpha perché naturalmente all'inizio avevamo solo quelli a disposizione, questo significato in termini di efficacia o meglio di migliorare retention rate per l'interno clima di 17 è ancora più significativo perché si vede come incida ancora di più proprio il cambio di meccanismo d'azione in questa tipologia di pazienti. Che messaggio possiamo portare a casa, dottor Paresi? Allora, sicuramente questo è uno dei primi studi rispetto agli altri che abbiamo visto pubblicati in letteratura che analizza l'anno di prescrizione e quindi questo è importante perché ci dà effettivamente una fotografia reale su quello che poi è il cambiamento di atteggiamento terapeutico che avviene nella real world da parte dei reumatologi e quello che si vede è che effettivamente cambiando il meccanismo d'azione, già il primo fallimento di anti-TNF e quindi spostandoci su un altro meccanismo d'azione come un anti-interno clima di 17, questo possa determinare sicuramente un effetto favorevole sulla retention rate.